Dottor Venturelli, quali stimoli e riflessioni sul mondo cooperativo suscita questo rapporto? Intanto la prima idea che emerge dalla lettura del rapporto è che il mondo cooperativo è una realtà molto importante, significativa nel programma del sistema economico e produttivo italiano, poi secondo noi c'è anche una grande valenza sociale legata allo sviluppo, non solo economico, ma che comunque è una realtà molto articolata e complessa da leggere nella sua globalità, nel suo impatto positivo che può esercitare in termini di bene comune, di sviluppo sociale ed economico per il Paese e questo tipo di impatto il rapporto forse lo coglie non totalmente e rispetto al rapporto qualche suggerimento per gli anni a venire e le abbiamo per poter esaltare e cogliere nel pieno significato ciò che rappresentiamo e che soprattutto facciamo in favore del nostro Paese.